Nella splendida cornice del Teatro di Verdura di Palermo si è tenuto il concerto di beneficenza di musica jazz a Not For Life, eseguito da Greg e Max Pirone Spice Freshman, organizzato dall'Associazione Progetto Forense Unione Liberi Avvocati, dai quattro Lion Club di Palermo, Palermo Vespri, Federico II, Host e Leoni, dalle associazioni culturali Linfa e Nina, dagli ordini degli avvocati, medici, ingegneri e architetti di Palermo. Uno spettacolo che ha registrato ampia partecipazione. Dopo i saluti iniziali da parte dei presidenti delle diverse associazioni e club Lions, si sono esibiti sul palco diversi artisti, quali l'artista Ginevra Gilli, il soprano Valentina Di Franco, accompagnata dai maestri Davide Rizzuto e Gabriele Palumbo, Monica Picone e Greg e Max Pirone Five Freshman, che hanno allietato il pubblico con brani jazz e swing di artisti come Dean Martin e Frank Sinatra. L'intero ricavato sarà devoluto alla realizzazione di una stanza di prima accoglienza per le pazienti oncologiche dall'interno della Brest Unit dell'Ospedale Civico di Palermo, alla cooperativa Sambaia, che gestisce una casa di accoglienza per donne vittime di violenza domestica, al restauro del crucifisso l'inimio della Chiesa di Santa Maria di Gesù e alla fondazione Lions Club International per sostenere il progetto U2 in Congo. www.z creamsazion.it.info